Yuki Channel SMR Ciao a tutti ragazzi e ragazze Benvenuti o bentrovati In un nuovo video Allora Allora Nei miei video vedete sempre una luce diversa Una postazione diversa Mi dispiace Fatemi sapere se tutto c'ha vita a pastiglio No, spero di no Comunque 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 Come state Io spero tutto 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 Bene Il video di oggi Sarà A tema Befana E perché Sfoderò con voi Facendo qualche rumore La calza della Befana Che non ricevo La calza della Befana Da un po' Tutti Questa è la mia ricetta Questa è la mia ricetta Questa è la mia ricetta A questa della Killgat questo video sarà un video più che altro incentrato sui rumori suoni la mia calza della pefana quindi non parlerò tantissimo come sono di solito parlate nei miei video come sono di solito i miei video ecco fatemi sapere se questa idea a me la chiacchierica mi piace io chiacchiero molto nei miei video perché mi piacciono molto i video ASMR parlati chiacchierati, whispering quelli con solamente i suoni non li vedo personalmente non li vedo e poi se ci sono tempi lunghissimi, pause lunghissime in realtà mi danno un po' fastidio mi annoiano quindi cambia subito però a me piace questo format io posso proporvelo con più frequenza sul canale andiamo a vedere cosa c'è dentro intanto mi sono anche preparato una tazza di da fumante io l'italo bevo bollente infatti non so se vedete ma fumo ancora infatti tutti mi dicono ma come fai? come fai? a me l'italo piace davvero bollente infatti mi ostiono sempre però davvero non ci posso fare niente nel bere da freddo io non lo bevo cioè non trovo soddisfazione nel bere da freddo però prima di incominciare con la calza della Befana io incomincierei con un regalo forse sicuramente il regalo più bello della Befana sia quello del mio ragazzo che è questa barretta al cioccolato al latte extra come rum giamaicano rum ufette nocciole dell'arretta da sport è davvero davvero carina mignola allora in realtà a me il cioccolato al latte non fa impazzire però lo sceltaio che sta perché siamo andati al negozio a Piazza di Spagna con lui vicino la metro che vede cioccolata non lo so chi è di Roma e lo conosce alzi la mano un negozio davvero già praticamente all'uscita della metro a Spagna si trova lì ed è davvero un paradiso il negozio del paradiso cioè il cioccolato per il cellulato e non vende solo cioccolato vende anche ramelli confetti torroni parettoni pantori ora che appunto sono quasi finite le feste infatti stavano in scuoto e anche credo liquori cosa del genere e non vedo l'ora di provarla assaggiarla ma non l'assaggerò di certo da solo ovviamente l'aprero con lui perché a me piace molto 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 condividere soprattutto dolci con altre persone non mi piace mangiare molto dolci da sola ecco già li devo mangiare con gli altri ok se no da sola scaro più forse più con il salato o magari a colazione ma non non lo mangio da sola ecco ecco il resto ho sentito un odore di cioccolato un po' forza è la mia immaginazione fatemi sapere se voi avete mai provato questa marca se vi piace sopra i strani permettendo di motorini vari scusatemi tantissimo cominciamo a vedere cosa c'è dentro premetto una cosa non mangerò queste cose credo che le regalerò perché l'ho già viste e non mi piacciono molto cioè non è il genere direi che mangio io è il genere di guarizia ovviamente non è il genere un giorno di guarizia mi preferite di quando ero bambina però quelle si sono quelle mie però non le rimangerei spero in questo video di rilassarti rilassarti ovviamente ci sono doppi ore tipo questi la mamma ve la rilassarti mi siano che oggi è molto molto però da piccola io mangiavo tutto le è una questione di igiene dentale eccetera non le mangio più assolutamente questo è comunque il gusto mandarino ce ne sono moltissime il gusto mandarino no questo è il gusto bel morosa questa non l'ho mai provata sempre da provare però magari l'apro per vedere com'è magari dopo l'apriamo una per vedere com'è ma non la mangerò questa questa gialla sicuramente è al limone frutto limone esatto a voi piacciono? fatemi sapere se poi le mangiate vabbè vabbè ti rubare tutte le caramelle allora c'è mandarino poi questo credo sia si mandarino limone e altre caramelle il doppio un sacco di caramelle vabbè visto che ci sono solo caramelle arriviamo al dunque oh la Smarties anche questi non mi piacciono però apprezzo comunque il gesto della persona che me la fa ma comunque questa roba non la butto c'è ovviamente la regalo e poi un'altra cosa diversa dalle caramelle ci sono i Kit Kat a me piacevano troppo i Kit Kat anche se ora non li mangiano non li posso mangiare però mi piacevano davvero 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 tanto buono a Fabiazzone Kit Kat e fatemi sapere anche cosa vedere i clip voi qui dentro ci sono ancora tutte le granelle ma è l'utile che le tiro fuori sono tutti i dubbioni anzi ora ci divertiamo insieme a mettere a posto c'è tutto mi diverto troppo a mettere a posto le cose sono una bambina ma i rumori di questi gli smarris ma sono come il tipo le M&M's questi non li ho mai mangiati questa è la mia calza della bufana ora credo che l'idea si sia un po' raffreddato di rubitarne e fare un altro video fatemi sapere se vi sono piaciuti i suoni se vi è piaciuto un po' nel tutto insomma a me fanno davvero 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 molto molto moltissimo piacere i vostri commenti e quando vedo un commento davvero sono molto molto contenta quindi fatemi sapere qualsiasi cosa io vi ricordo che abbiamo l'appuntamento ogni lunedì e per questo canale e vi auguro là buonanotte 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 buonanotte